Ciao a tutti ragazzi e ragazze e vi chiedo scusa subito per il modo in cui vi tocca sta perché se no se alzo la testa si vede tutti i cerchi negli occhiali quindi non è per guardarvi male ma è perché se no si vede riflesso allora col video di oggi vi propongo un middling sui temi dei capitoli principali di Crash Bandicoat Crash Bandicoat come molti di voi sapranno è un gioco molto famoso nel mondo Playstation che ha iniziato la sua avventura nel Playstation 1 e che è stato riproposto con un remake nel 2017 mi pare pochi anni fa quindi a voi Crash Bandicoat a 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 bene ragazzi il video è finito spero vi sia piaciuto e se vi è piaciuto un bel like comunque una condivisione non ci sta male ma soprattutto se avete richieste se avete interesse che io magari metta a fare qualche cosa jobs in particolare ci vediamo alla prossima on